un orzetto per luce ok vediamo la signora parliamo nuovo lancio rimane così fermi quando per il fuoco rischi praticamente non devono fare pochetti non si capisce, spiando dai premi che mettiamo a disposizione sarà neanche sempre più tempo quindi se sei fortunato fa a stai male il polo di nodo è delizioso e 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 il polo di nodo è delizioso terzo tiro un orzetto un orzetto un orzetto un orzetto non ci sono le persone Grazie a tutti 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 Grazie a tutti